Voglio partire esattamente dal punto da cui è partito Urso. Le immagini che abbiamo visto dell'aula di Montecitorio danno conto di un cambiamento storico. Perché il percorso di Berlusconi dal 94, anzi direi da quel 1993, fine 93, in cui Berlusconi scese in campo dichiarandosi al fianco di Fini e contro di me nella elezione per il sindaco di Roma. E' cambiata un'epoca da allora. Nel ballottaggio del primo e secondo turno. Sì, è cambiata, era il dicembre, fine novembre. Casalecchio di Reno. E' cambiata un'epoca, perché? Perché allora si formò un centrodestra che prometteva una rivoluzione liberale, si formò un centrodestra con Berlusconi, Fini, Casini e Bossi e oggi è rimasto un centrodestra con una maggioranza di governo con Berlusconi e Bossi. È evidente che in un quadro del genere è il bipolarismo che è andato in frantumi, perché il fatto che questo bipolarismo non sia riuscito a risolvere i problemi, l'hanno capito, lo vivono, lo vedono tutti gli italiani, e il fatto che i due maggiori partiti, io sono stato uno dei fondatori del Partito Democratico e ho preso atto, senza polemiche inutili, che il Partito Democratico è tornato ad essere il Partito Democratico di sinistra. E quindi penso che il fatto che ci siano soggetti di centrodestra, come orgogliosamente e giustamente sono gli amici di AN nella loro storia e oggi future libertà, forze di centro, come è l'Udc di Casini, e forze di centro-centrosinistra, come è stata tutta la mia storia politica, fino alla Margherita e fino al tentativo di fondare un Partito Democratico che fosse competitivo in tanti settori della società che non votano la sinistra, beh, ci spinge a far nascere un nuovo polo. Si dice terzo polo, ma sostanzialmente di questo parleremo da dopo domani. Oggi quello che è ovvio... Però Casini ci ha detto che non esiste il terzo polo. Casini ha detto e come che esiste, e ha detto anzi che lui con Fini è saldamente, e con noi di Api, di Alleanza per l'Italia, è saldamente in una condizione di lealtà che ovviamente si misurerà dall'indomani di questo voto perché noi cosa abbiamo detto? Per questo voto negheremo la fiducia al governo. Da domani saremmo pronti e siamo pronti a sostenere un governo di larga convergenza che abbia le forze che hanno vinto le elezioni, perché è giusto, chi ha vinto le elezioni in questa legislatura deve tentare di governare se ha i numeri, non ce li ha più. Perché è ovvio che da domani uscirà un governo che o non ha la fiducia o se ce l'ha, magari ce l'ha per tre voti, un voto, un pareggio, chi lo sa. Non si governa così il Paese. Non ce l'hanno fatta. Quindi voi sareste disponibili ad aprire una trattativa? Mettiamo che Berlusconi ce la faccia. Non ce l'hanno fatta con 106 giri vantaggio, Vespa. Ce la fareste una trattativa per entrare nel governo? Noi ad appoggiare un governo di larga responsabilità per fare le riforme che non si possono fare in cui ci sia anche il centrodestra e ci siano forze di opposizione responsabile siamo disponibilissimi a sostenerlo per il bene del Paese e non certo per posti che non sono in questione. Quindi voi scusate, per capirci, noi ammettiamo che Berlusconi ce la faccia. Ma non con Berlusconi. Ho capito, ma se ce la fa, quello che fa? Se ce la fa, va avanti. Qual è il tema? Mi scusi. No, il tema è che Berlusconi prende la fiducia per il pareggio, per niente, eccetera. Dopodiché dice, apriamo una trattativa. Se Berlusconi ha vinto domani, governerà? Prende la fiducia per governare? Non avrà bisogno, certamente, del sostegno. Ma lei fanno piacere le elezioni anticipate? Diciamo che le elezioni anticipate sarebbero negative per un motivo fondamentale. che se le due coalizioni, come le abbiamo viste in questi anni, non ce l'hanno fatta... Lei dice, figuriamoci dopo. Si figuri come fanno a governare il paese delle coalizioni più ristrette. E lei vede un'alternativa... Il centrodestra senza casini e senza fini e il centrodestra che si riduce a PD, Di Pietro e Vendola. Lei che è un politico di lungo corso, se Berlusconi ce la facesse, voglio dire, vedrebbe la possibilità di un altro governo senza Berlusconi? Se Berlusconi ce la facesse, governerebbe? Ho capito, ma se non ce la fa governare... Se non ce la fa governare, si cercherà di fare, a mio avviso, se fossimo persone responsabili, tutti lo dovremmo fare, un governo affidato ad una personalità in condizione di guidare questo paese e di fare le riforme che Berlusconi non ha fatto. Perché oggi, mi scusi, che lista di riforme che promette da dieci anni ha detto Berlusconi avrebbe fatto questo punto della trasmissione per renderci conto che la maggioranza che è uscita dalle elezioni non c'è più. Questo è accaduto già nella precedente legislatura, non perché ci fosse stata una campagna acquisti. Il governo di cui io facevo parte, il governo del centro-sinistra, si era rotto per motivi politici, perché le forze di sinistra radicale erano troppo influenti sul governo. E quindi quella maggioranza non ce l'ha fatta più. E certo, è passato un senatore, due senatori, tre senatori, da un'altra parte. È chiaro che era una crisi politica dell'Unione e infatti da allora quel processo politico è finito. In questa legislatura si sancisce la conclusione dell'esperienza di questi 17 anni e inizia una fase nuova. È la notte nella quale tutti cercano di recuperare un deputato, di strapparne un altro, per capire come finisce questa votazione. Ma è evidente a tutti che al di là della tattica che ognuno usa per convincere, per argomentare da una parte e dall'altra, domani si discute alla Camera dei Deputati una mozione di sfiducia a questo governo firmata anche da FILEI, oltre che dall'Udc, da Alleanza per l'Italia, dall'MPA, dalle forze liberal-democratiche che hanno sostenuto il voto di sfiducia al governo. Se questo voto ci sarà, a mio modo di vedere sarebbe decisamente meglio evitare le elezioni perché in mancanza di una maggioranza di governo, di fronte alla gravità della crisi economica, la maggioranza non c'è più. Questo è il punto di partenza. In una situazione di crisi economica come questa converrebbe unire le forze prima della fine legislatura e gli ultimi due anni della legislatura utilizzarli per fare quelle riforme che neppure i 100 voti di maggioranza liberalizzazioni, mercato interno europeo, green economy, provvedimenti per la famiglia, misure per le piccole imprese, le politiche... Assolutamente, sai bene... Ma voi che pensiamo noi? Quella che pensate voi? Tutti parla di riforma, voi riforme... Scusami, voi che vuol dire? A chi ti rivolge? All'opposizione. Scusami, a chi ti stai rivolgere? L'opposizione. Allora... Hai votato una riforma all'università, voi l'avete chiaramente combattuta, quindi di quale riforme stiamo parlando? Sei disinformato, come sai? Hai votato a favore dell'università. L'ha votato a favore. L'ha votato a favore. L'ha votato a favore. Chiedo scusa, non lo sapevo. Tu sei disinformato perché noi abbiamo... Effettivamente l'ho disinformato, pensavo avessi votato contro. No, noi abbiamo... Ma comunque gli altri ha votato contro. Se vuoi te la documento pure, noi abbiamo presentato emendamenti importanti, ordini al giorno che chiedevano di riprodurre i finanziamenti che Tremonti ha tagliato. Comunque resta il fatto che l'opposizione ha votato contro questa nostra riforma. Vabbè, Chutelli ha votato a favore. Lasciamolo completare, per favore. Continuo a dire voi... Allora, tu stai parlando con qualcuno che si è battuto all'opposizione sempre, ma quando c'è un provvedimento che contiene delle misure migliorative, abbiamo dimostrato che quei provvedimenti, come alcuni provvedimenti sulla sicurezza, come le misure di politica estera, come alcune misure per creare più merito e più concorrenza tra le università e più favore per tagliare gli sprechi e il mondo universitario le abbiamo votate. Quindi, al contrario, noi non siamo una forza ideologica, siamo una forza costruttiva. Allora, oggi, oggi, la maggioranza non c'è più. Domani vedremo se avrà un voto in più o un voto in meno. Se avesse un voto in più o un voto in meno, la linea loro è sensata. Dire a Berlusconi, prendi atto che un ciclo è finito. Se tu ti assumi, dicono loro, ti assumi la responsabilità di pilotare verso una soluzione che coinvolga la maggioranza preesistente e anche l'Udc, è quello che Casini, a te non piace, ma è quello che lo stesso Berlusconi ha detto oggi nell'Aula, correggimi Lupi, ha rivolto un invito a Casini. Quindi, tu te la prendi con il partito di Fini, ma dovresti prendere te la con Berlusconi. Berlusconi, oggi, al Senato e alla Camera, ha fatto un appello per l'ingresso di Casini. Il punto non è questo. La maggioranza non c'è più. La volete costruire una nuova maggioranza con le forze oggi dell'opposizione per affrontare la crisi economica? Se non ci sono le condizioni, si andrà alle elezioni. E da domani, da dopodomani, però sarà chiaro che si è andati alle elezioni perché si è rotta la vostra maggioranza e voi non avete fatto le riforme che voi avete promesso a tutti gli italiani. No, vogliamo vedere, scusate.